Una casa con finestre sbarrate Una sirena Pronto Una telefonata muta Pronto Pronto, chi? Non si può tagliare la corda dopo tanti anni insieme, ormai bisogna andare fino in fondo In fondo a cosa? In fondo c'è solo il rancore, l'odio, il desiderio di ferire George Simenon, il maestro del trilling, ha scritto la storia Zhang Ben E Simons Signoret ve la raccontano Non è colpa mia se ti sei mezza rotta Non è stata colpa tua, ma ci hai goduto quando ti hanno detto che non avrei mai più camminato a dritta Non è vero? Sì, è vero E ora mi rinfacci di non poter più lavorare Sì Allora o sei un sadico o sei un cretino O tutte e due, contenta? Uno strano enigma spinge due persone, una contro l'altra, in un'atmosfera di reale parossismo Qualcosa doveva accadere Qualcosa che avrebbe spezzato l'incubo Nella loro mente una molla stava per scattare E il giorno sarebbe giunto Poi arriverà il giorno che ci separerà definitivamente Magari arrivasse subito Non hai che da suicidarti Un'altra cosa Sarebbe un articolo interessante Un ex acrobata uccide il marito perché la tradiva con un gatto Avanti, su, forza, spai Che cosa aspetti? Zhang Ben Simon Signoret Georges Simenon Tre nomi colossali per un film diverso Una vicenda allucinante che potrebbe succedere anche nella realtà Sarebbe un'altra cosa Sarebbe un'altra cosa Sarebbe un'altra cosa